Scottie Moore, un link alla Scottie Moore importantissimo il suono di questa seconda parte del solo non è la nota naturale ma è leggermente tirata per replicare il suono uno slapback molto corto proprio come quello di Scottie Moore quindi una sola ripetizione molto veloce è questo il suono senza sarebbe questo qui con il suono il suono il suono il suono